Quale prodotto converrà acquistare in Altered quando arriverà sui tavoli da gioco? In che quantità bisognerà recuperare un singolo articolo? E quale, tra starter deck e box di espansione, risulterà essere il più adatto a chi vorrà avvicinarsi alle dinamiche del TCG francese? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Mentre i roadshow stanno dando il via alla seconda ondata di test per i centri ludici che ne hanno fatto richiesta, Altered continua a far crescere l'hype per il suo arrivo previsto per la metà di settembre 2024. I preordini sono stati aperti in ogni dove, Fantasia Store compreso, vi lascerò in descrizione i link ai prodotti. E già da un po' si è iniziato a testare un meta che arriverà presto, dando la possibilità ad una o più delle sei casate apparse in questo primo atto di dominare indiscussa l'esplorazione del tumulto o di creare una sorta di bilanciamento che vedrà battaglie combattute fino all'ultimo avanzamento sulla plancia di gioco. La domanda che però attanaglia ogni nuovo giocatore è sempre la stessa. Quanti starter deck o box dovrò acquistare per avere un numero sufficiente di carte pronte per essere giocate senza preoccuparmi di nulla? Nel video odierno andremo a rispondere a questa domanda basandoci su semplici calcoli matematici tenendo conto anche della costruzione di un deck in Altered che seguirà un determinato modus operandi. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click, per voi è un semplice gesto ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme cosa e in che quantità converrà acquistare gli articoli presenti in Altered. Andiamo a dargli un'occhiata. Panoramica dei prodotti Attualmente in Altered sono presenti 7 articoli, 6 starter ed un box da 36 bustine. Partendo dai primi, questi andranno a rappresentare una base di partenza per tutti coloro che vorranno dare il via alla propria avventura nel mondo del TCG francese. Infatti avrete a disposizione le liste base degli Axiom, i Bravos, i Lyra, i Muna, gli Ordis e gli Izmir pronti all'utilizzo con rispettive numerazioni interne che regoleranno dinamiche di gioco appartenenti alle relative case. Ok Arconte, ma quanti starter dello stesso tipo dovrò acquistare per avere tutte le carte disponibili possibili da integrare all'interno di un mazzo? La prima cosa da fare sarà prendere in considerazione a quante unità monterà un playset, ovvero il numero totale di carte in più copie all'interno di una lista per rispondere a tale domanda in primo luogo. Ad esempio, in Magic, come per il TCG di One Piece, il playset è composto da 4 carte, mentre in Altered, come per Yu-Gi-Oh!, questo ammonta a 3. Andrà da sé quindi che, se una carta sarà presente in 3 copie all'interno di un prodotto iniziale, non dovrete recuperarne altre, semplicemente avrete tutte le copie che vi serviranno. Quindi converrà acquistare 3 starter ed il gioco sarà fatto? Praticamente sì. Ma attenzione, la costruzione di un deck in Altered, come già anticipato, richiederà il soddisfacimento di alcuni crismi senza i quali non si potrà rendere legale un mazzo. Ad esempio, non si potranno avere più di 3 copie di una carta con lo stesso nome in un deck, indipendentemente dalla sua rarità. Quindi dovrete trovare un giusto compromesso numerico andando ad escludere ad esempio la versione comune per dare spazio ad una rara e due uniche, o includere 3 comuni escludendo le rare e le uniche, o scegliere di inserire una di ogni tipo nella lista che vorrete giocare e così via. In più dovrete tenere bene a mente che nella costruzione di un mazzo, che dovrà essere composto da un eroe e da almeno 39 elementi della stessa fazione dell'eroe stesso, potrete usufruire di massimo 15 rare e 3 uniche, bilanciando le dinamiche di gioco nel migliore dei modi. Ok, ma quindi quanti starter dovrò comprare? Come già detto, ne consiglio 3 per fazione per avere il playset completo di ogni carta presente negli starter, dato anche che, da quel che mi risulta, non saranno presenti uniche tra le liste proposte. O se non vorrete affrontare una spesa piuttosto importante, dato che si sta parlando di più di 200 euro, il consiglio sarà sempre lo stesso, acquistate le singole e completate la lista che più si adatterà alle vostre richieste, andando ad impiegare nel migliore dei modi le finanze che avrete a vostra disposizione. Qui vi lascerò le grafiche di ogni mazzo e le quantità delle carte che ognuno di esso conterrà al suo interno, a partire dagli axiom in ordine alfabetico, così da potervi fare un'idea sul quale acquistare per dare finalmente inizio alla vostra avventura nel meraviglioso e misterioso mondo di Altered. Spetterà quindi come sempre a voi l'ultima parola, ponderate per bene ogni decisione e valutate la spesa prima di effettuarla, soprattutto se nella vostra zona sarà presente uno o più giocatori che assieme a voi inizieranno il viaggio alla scoperta degli enigmi che il tumulto celerà. In questo caso infatti potrete dare il via a scambio acquisti direttamente a tu per tu con altri esploratori della zona, velocizzando quindi ogni dinamica che, per quanto riguarderà l'Ethere, dovrà rispettare invece i tempi canonici di elaborazione dell'ordine effettuato. Mentre per il box acquistatelo per avere maggiori possibilità di trovare qualche carta unica che andrà a rafforzare la profile che vorrete impiegare durante una partita. Anche perché con 36 booster disponibili e la possibilità di trovare statisticamente una unique ogni 8 pacchetti, di media ne usciranno 4 a box. Perciò ricapitolando, per avere ogni carta disponibile in playset all'interno degli starter dovrete acquistare 3 copie di questi ultimi o una singola confezione per casata, quella che più vi interesserà giocare, recuperando poi le carte singolarmente dal mercato secondario quando sarà presente e sviluppato. Mentre per i box uno o più per recuperare sia altre carte non presenti negli starter così da rafforzare la propria lista giocata che le uniche pronte per dare quel tocco in più al mazzo che impiegherete durante un match. Per l'acquisto di carte singole poi dipenderà ovviamente anche dal costo delle stesse, poiché se una carta si aggirerà attorno ai 10 euro andrà da sé che il pensiero iniziale, quello di recuperare un secondo o terzo starter, di certo potrà tornare la soluzione più valida, ma vedremo a tempo debito come si svilupperanno le cose. Prima di concludere volevo aggiungere un altro fattore da prendere fortemente in considerazione, soprattutto se di articoli in mercato ce ne sono di così pochi. Pensate anche alla priorità di acquisto, in che senso? Potrà andare a finire che, referendo uno o più starter dei Muna ad esempio, dopo l'apertura dei box vi ritroverete tra le mani quattro uniche, nessuna però appartenente alla casata in questione. Quindi per massimizzare ancora di più gli sforzi economici che farete, aprire prima un box per quanto mi riguarda sarà la scelta migliore da fare e con il pool sottomano potrete procedere ad acquistare quanti deck tematici vorrete avendo già una solida base di potenziamento grazie al ritrovamento di uniche, rare e comuni appartenenti proprio ad una specifica fazione. Concludendo, manca davvero poco all'arrivo di Altered e grazie ai roadshow le dinamiche del TCG francese campione di incasi su Kickstarter potranno essere a disposizione di ogni appassionato, pronto per intraprendere un pericoloso viaggio nell'ignoto assieme al suo companion. E voi avete già provato a muovere i primi passi oltre i cancelli di Asgarta? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.